Ciao a tutti, mi chiamo Giada, ho 28 anni e vengo da Codogno, in provincia di Lodi. Al momento mi trovo in Irlanda, a Cork, dove vivo da sei anni ormai e dove sto passando la mia quarantena. Ora vi farò vedere come passano le mie giornate qua. Questo è il mio ufficio, qui è esattamente dove lavoro tutti i giorni, questa è la mia postazione e rimaniamo in attesa di poter ritornare in ufficio, il che sarà non prima di agosto. Questo è il giardino di casa mia, come potete vedere oggi è una bellissima giornata qua in Irlanda, fa molto molto caldo e sono molto fortunata ad avere uno spazio che posso utilizzare nel mio tempo libero quando non lavoro. Questo è quello che vedo da casa mia, come potete vedere è una zona molto residenziale, quindi molto molto tranquilla e poco più in là c'è un piccolo bosco, diciamo, dove si può andare per fare delle piccole camminate. questo è un grosso parco dove la gente viene nel tempo libero e come potete vedere tutti mantengono una rigorosa distanza sociale.